Buonasera, benvenuti a Cinecittà, la nostra rubrica dedicata al grande schermo, parliamo del film Ti sposo ma non troppo e lo facciamo insieme a uno dei protagonisti. Buonasera a Fabio Avaro. Buonasera, ben trovati. E allora, anzi, ben tornato, tu sei un ospite abituale di foyer e invece adesso a Cinecittà. Non posso mancare da te, ci porti bene, quindi ti stiamo testando anche in campo cinematografico. Se ci portate bene anche con il cinema, io prendo residenza qui negli studi dell'Eromani 56. E allora, una commedia che è andata benissimo a teatro e che adesso arriva al cinema. C'è tensione, no? Il 17 si debutta e via. Anche perché ci abbiamo messo pochissimo tempo, soltanto dieci anni per far diventare questa commedia un film e per far diventare il sogno realtà guidati e capitanati dal nostro grande Cabello e Pignotta. Mio amico fraterno, nonché regista, autore del film, risposto ma non troppo. Sì, c'è grande tensione, ma attenzione, devo dirti la verità, è più una tensione basata sull'alecria, positiva. Adrenalina. Bravissimo, adrenalina pura. Ogni giorno che passa sono sempre più curioso di vedere che risposta ci sarà in sala, quanto piacerà se piacerà alla gente. Ormai il nostro l'abbiamo fatto. Il cinema c'ha questo di bello, devo dire. La differenza del teatro, no? Una volta che tu hai lavorato sul set e hai recitato, il tuo lavoro era quello, e il tuo l'hai fatto. Dopodiché devi stare soltanto lì ad aspettare i risultati e vedere quanto quello che hai fatto piacerà poi al pubblico. Mio, in teatro, quello che fai, lo vedi direttamente e lo senti subito se piace o meno. Assolutamente, però prima di andare avanti, vediamo insieme il trailer del film, così ci facciamo un'idea. Dottor Ferri Sì, sono io. Stai scherzando? Ma io la voglio rivedere. Ho capito, ma così rischi una denuncia. Mi stavo per sposare. E lui mi ha volato davanti all'altare ed è scappato con un'altra. Sono depressa, mangio comunque a me un'istia e quando mi guardo allo specchio vomito. Pensavo peggio, onestamente. Amore, lo so, di anni che stiamo insieme? Sai che conviviamo? Ma perché non si sposano? Adesso tu non sei più Lotti, adesso tu sei Sharon. Come faccio a vedere se Sharon è connessa? Intanto chiudi la finestra. Sì, va corrente, io c'ho pure Mar de Gula. Pronto? Attacco di panico. Vai su Google e cerca attacchi di panico. Dove devo andare? Affanculo, levati. La forma di psicoterapia. Che la ricerca scientifica ha trovato a essere efficace. Che la ricerca scientifica ha trovato a essere efficace, Andrea. Chiudi pop-up. Chiudi pop-up. Ma che cazzo? Quale sarebbe questa tipologia di uomini di cui si innamora? Mi innamoro sempre degli strunzi. Perfetto. I'm the sweetest candy, but get stuck between your scenes. Sushi sashimi, infia. No, ti devi copiare. Andrea, ti prego, perdonami. Ci vado così. Sobria. E allora... Eccoci qua. Una commedia degli equivoci, però poi si riflette sull'amore, no? Sì, sì, si riflette sull'amore. E come diciamo sempre io e Gabriele, ormai abbiamo ribattezzato una generazione. Forse se ne aveva parlato anche lì allo tetrale con te, no? Non so se ricordi, si parlava di questa nostra generazione, della quale facciamo parte anche noi. D'Utratro Trentenni. Sì, degli Utratrentenni. Dei non-tropisti. Nel senso, ti sposano troppo tutte quelle persone che si impegnano nell'amore, come in tanti altri settori della vita, ma senza impegnarsi troppo. I non-tropisti. I non-tropisti. Una nuova categoria di persone, sì. Quali sono state però le difficoltà maggiori, no? A teatro c'è il rapporto con il pubblico, al cinema ovviamente no. C'è la telecamera che può essere fredda, se vogliamo, no? Guarda, ti racconto un aneddoto per farti capire che comunque, per quanto mi riguarda, alcune cose del teatro, ma con il rapporto col pubblico, e me le sono portate anche sul set del cinema, perché io mi divertivo a recitare, a fare i pezzi che dovevamo andare al Shack per le persone, per i ragazzi della squadra, della truppa. Quindi alla fine, secondo me, il mio pubblico ce l'avevo comunque di fronte, perché quando sei sul set, quelle 20 persone, 30 persone, che ognuno fa qualcosa per assistere tecnicamente al Shack, c'è, ci sono. E quindi mi divertivo a recitare per loro e a divertirmi con loro. Adesso questa ovviamente era una battuta, però la differenza c'è, ma devo dire una cosa, te lo dico proprio apertamente, in tutta franchezza. Io ero un pochino un fondamentalista del teatro, no? Nel senso che il teatro è il teatro, e mai nessuna delle arti simili. La grande passione poi tua, ovviamente. Sì, e quindi non pensavo che il cinema potesse accendere la stessa passione, lo stesso divertimento nel farlo, proprio la domanda che tu mi hai fatto. Non ho il pubblico lì davanti in tempo reale, quindi come faccio a passare le emozioni? Anche il fatto che ogni rappresentazione è diversa, no? Bravissimo, bravissimo, esatto, bravo. A seconda del feeling che si crea con il pubblico. Giusto, hai pienamente ragione. Mi muovo da solo un'obiezione dopo aver fatto un film da protagonista. C'è una grande magia dietro il cinema, ovviamente, anche. Diversa, per esempio. Nello stare sul set. C'è una grande magia perché quella cosa lì, dove sto guardando adesso, ha qualcosa di veramente eccezionale, perché le emozioni che vivi tu nel momento in cui reciti vengono passate di mano in mano a dei tecnici, dalla fotografia, all'audio, il montaggio, il mixer, tutto ciò che ci puoi mettere dentro. E soltanto dopo un mesi arriva una persona che lo vede su un grande schermo e vive le emozioni che tu gli hai fatto vivere otto mesi prima recitando davanti a una macchina presa. Se non è magia anche questa. Insomma, me ne sono innamorata. Viviamo insieme qualche altra immagine, qualche altro momento del film. Seguiamo insieme questa clip. Buongiorno. State, 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 per carità. Carlotta. Andrea. Carlotta e Andrea. Bene. Allora, siete pronti per fare questo passo? Siete pronti per cementare il vostro amore davanti a Dio? Per giurarvi fedeltà eterna? E per diventare una sola cosa? Per sempre! Allora, parliamo anche delle due protagoniste, Chiara Francini e Vanissa Incontrata. Va bene, ci ha detto bene, dobbiamo provare a metterlo. Siamo stati fortunatissimi. Abbiamo trovato due compagne di lavoro che sono diventate poi anche amiche nella vita. Io con Chiara mi sono veramente ucciso dalle risate. Chiara è una ragazza formidabile, simpaticissima, una grande professionista. Vanessa, sì, lo sappiamo un po' tutti, la sua verve... Ironica. La sua ironia, ha le corde del brillante tanto quanto la stessa Chiara Francini. Di entrambe devo dire una cosa, io feci un complimento a Vanessa alla fine dei giorni in cui si è girato. Più di un mese siamo stati insieme sul lavoro. Io a Vanessa le ho detto sei così una bella persona, umanamente parlando, che quasi quasi ci va a perdere la bellezza fisica. Nel senso, dopo qualche giorno che si parla con te non ti si vede più come una gran bella ragazza, perché lo è, ma ti si considera veramente una gran bella persona. Veramente una persona adorabile. Adesso il 17, se non erro, debuttate al cinema. Sì. È fondamentale, per quanto riguarda il botteghino, andare bene la prima volta, la prima settimana, no? E torniamo all'adrenalina di cui parlavi prima e all'attenzione. Altrimenti si rischia. Sì, io ho scoperto questa cosa negli ultimi anni, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno da quando ho messo piede nel cinema, che il cinema non ti dà molto tempo di far innescare il meccanismo che a noi ci ha portato dove siamo, il famoso passaparola. Nel senso, quando sei quattro settimane in un teatro, sei quattro settimane in quel teatro che ha scassi il mondo, insomma, le due settimane te le fai tutte, se la prima settimana va bene, la seconda, la terza, la quarta spesso si innesca il volano del passaparola e la quarta settimana il pubblico arriva a pagare biglietti interi senza neanche promozioni, piuttosto che chissà quale ricerca di pubblico, insomma. No, arriva da solo. È partito il passaparola, vuol dire che lo spettacolo funziona. Nel cinema c'è una particolarità. Il primo weekend, e quindi per quello che ci riguarda, ve lo ricordo benissimo, è dal 17 al 20 aprile, il primo weekend di un film è il più importante di tutti, nel senso che ho capito e mi hanno spiegato che i cinema iniziano a togliere copie dalle sale in giro per l'Italia se il primo weekend non rispetti come incassi gli incassi che si erano prefessati, la distribuzione e il cinema stesso e la produzione del film. Quindi, togliendoli da 100 sale, noi siamo in 200 sale in tutta Italia, se dopo una settimana non siamo più in 200 sale, mi precludi la possibilità di andare in giro. Iniziano i problemi, iniziano i problemi. Seguiamo insieme adesso l'ultima clip, così scopriamo altri personaggi del film. Amore mio, sei bellissima! Dici? Hai visto? Ernie, Ernie, hai visto? È uguale a me il giorno del nostro matrimonio, ti ricordi? E chi se lo scorda? Il giorno della condanna. No, comunque, io non lo so... Eh, vedi? No, mi sta tutto largo in vita e poi non mi piace come cade qui sul sedere, no, dai. No, invece ti sta benissimo. Mamma, ti ho detto che non sono convinta neanche di questo. Ma non convince nemmeno a me, 7 mila euro! 7 mila e 7. Eppure, dai, una cosetta un po' più semplice, tanto amore, no, si usa una volta, poi si butta. Ernie, per favore! Via, amore, ne hai già provati almeno 10? 18. Ecco, appunto, è possibile che non ce ne sia nemmeno uno che ti piace, eh? Che vi devo dire? Si vede che ancora vestita la sposa non mi ci vedo. Brava, papà, salvate finché se il tempo... Abbiamo visto anche Paolo Triestino, tra l'altro compagno di scena, se vogliamo. Il mio mito, Paolo Triestino è il mio mito, l'attore a cui io aspiro professionalmente parlando. Lo adoro come uomo e come professionista, sicuramente. La cosa bella, se mi permetti, è proprio questa, che oltre a Paolo Triestino, tutti gli attori che hanno ricoperto i ruoli più importanti del film sono dei colleghi e anche degli amici che sono venuti a fare il film di Gabriele con tanta passione e tanto amore, proprio in virtù dell'amicizia che c'è. La Paolo Tiziana Cruciani, il prete della scena di prima che abbiamo visto è Nicchi Nicolosi, un ragazzo che lavora in compagnia con noi, Giada Prandi è la ragazza del negozio di spose, ci sono veramente tutti. La Michela Andreozzi, non vorrei dimenticare la grande Michela Andreozzi, Michela Andreozzi che fa una delle amiche di Vanessa Incontrada. No, 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 è veramente stato qualcosa di veramente molto divertente e nel quale io e Gabriele abbiamo riscontrato veramente l'affetto che queste persone provano per noi. Tra l'altro Gabriele che sta vivendo un momento importante, il film di Carlo Verdone sotto una buona stella, è davvero sotto una buona stella perché è campione di incasso al botteghino, per lui è una realizzazione, scrivere per teatro è importante, poi riuscire a scrivere anche per il cinema ha delle differenze. Guarda, io ti posso raccontare un'anedoto che Gabriele senza neanche che lo chiamo o me lo dà, il permesso mi permetterà sicuramente, sarà felice che lo racconti. Quando è stato chiesto a Gabriele se voleva essere interessato a scrivere il film per il nuovo, appunto scrive il testo, la scena giuda per il nuovo film di Carlo Verdone che è bello e rimase al telefono a bocca aperta e dice scusa che domanda mai fatto? Io faccio l'autore, sono un autore italiano e romano, ho 40 anni e tu mi chiedi se posso scrivere il film per Verdone e la risposta è obbligata. E tant'è vero che Carlo al primo incontro quando gli disse a chi ti ispiri quando scrivi le tue commedie a teatro, ho detto come a chi mi ispiro? A te e a tanti altri come Troisi, Nuti e tutti loro. Insomma i grandi del cinema. E capolo vorrei vedere insomma, ci mancherebbe altro. E lui ha avuto delle difficoltà nell'adattare il testo teatrale al cinema, insomma al film, al testo cinematografico se vogliamo dire così. Fondo con una battuta di una cosa che ho vissuto io in prima persona essendo ormai il fido compagno di scena di Gabriele. Le difficoltà le abbiamo vissute quando lo scriveva per il teatro, perché Gabriele Pignotta quando immagina le sue commedie le immagina film anche quando le scrive per il teatro. Lui le immagina film, io non lo scorderò mai, quando alle nostre prime armi lui che immaginava le nostre commedie mi raccontava la storia che lui aveva sognato che stava scrivendo e metteva dentro 10-12 location diversi e diceva oh amore mio, perché sei impazzito amico? E da un po' di teatrale è complicato. Non ce la facciamo con i soldi, ci autoproduciamo, poi anni fa non avevamo tutte queste possibilità, quindi lo dovevamo tenere a bada perché la pensava a livello di film. Quindi quando è passato al cinema e può andare sulla spiaggia a fare la passeggiata con la ragazza di cui il personaggio si sta innamorando e poi al ristorante giapponese, al cinema lo puoi fare. E lì Gabriele come si dice ha sballato. Si è divertito veramente. È un brodo di giugiole, sicuramente sì. In chiusura voglio chiederti perché è importante vedere questa commedia, cosa ci insegna anche? Beh, diciamo che ti sposano non troppo senza alcuna presunzione di lasciare alcun messaggio sociale piuttosto che far la morale su niente e a nessuno. Gioca, scherza e fa ironia proprio sui rapporti di coppia, sull'amore. Ci mette dentro il diavoletto del web. Dice anche tante verità. Dice anche tante verità su questo mondo. Dice anche tante verità su questo mondo, sicuramente sì. Però vuole giocare, scherzare, ironizzare e magari lasciar pensare a chi gli va di ragionare uscito dal cinema con la propria compagna se e quanto si riconoscono e si riconosceranno nei personaggi del film. Questo sicuramente sì. Fatelo, divertitevi a farlo. Grazie a Fabio Avaro e bocca al lupo per questa avventura. Dal 17 aprile al cinema, mi raccomando. Noi invece ti aspettiamo a Cinecittà o a Foyer. Insomma, decidi tu a seconda di dove sei, se sei in scena o se sei al cinema. È tutto per quanto ci riguarda. Dopo la pubblicità arriva il calcio con Paolo Colantoni. Noi invece ti aspettiamo a Cinecittà.